Detto da PvT, ecco qua in un altro video sul perché alcuni personaggi sono nelle PvT Max e Ivan, non questi Perfetto, sti due qua Max e Ivan Perché sono nelle PvT? Bene, dopo gli eventi di, sappiamo noi, che ho deciso di rinventarli come una specie di smeraldo, tra virgolette E' una specie di delta smeraldo, una cosa del genere ho deciso di rinventarli, quindi sono tutti e due come villain Alla fine, vengono chiaramente sconfitti per quella di vedere qua a Zambardà, no? Come sappiamo già, poi viene comunque l'evento delta, avviene lo stesso Ma non è tanto questo l'importante, è vero il fatto che loro due a fine vengono sconfitti E come viene detto spesso nei giochi, loro appena sconfitti cambiano completamente faccia E si rinventano come buoni, tra virgolette Quindi automaticamente ora come ora Max e Ivan non sono più i villain che erano tempo addietro Ora sono diventati due personaggi positivi E quindi partecipano a PvT perché vogliono far vedere che sono mai forti In questo caso perché ormai hanno avventato delle nuove aziende, tra virgolette Che chiaramente vogliono pure pubblicizzarsi E far vedere che ormai non sono più i cattivi che erano una volta E sono diventati due personaggi prettamente positivi E quindi automaticamente sono lì anche loro Ecco perché sono da PvT Da Biotic2 e noi ci vediamo al prossimo video Grazie per la visione!